Vieni, vieni, guarda, guarda. Non mi ricorda niente sta scena. Ciao, sono Valerio Novara. Nell'agosto del 65 usciva il primo libro di Dune, il romanzo di Frank Herbert, che avrebbe cambiato il modo di raccontare la fantascienza. Parla della faida tra la dinastia Atreides e la dinastia Arkonen, in lotta per il controllo del pianeta Arrakis, una terra deserta che produce una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica, per questo preziosissima e molto ricercata. La saga è composta da sei romanzi e ha ispirato tra le saghe fantascientifiche più famose della storia, una fra tutte è Star Wars. Ma penso di non essere l'unico ad aver notato delle somiglianze con Game of Thrones, la serie tv che fece il botto su HBO, tratta dai libri di George Martin, scritti negli anni 90. E anche se Dune è ambientato nello spazio, il trono di spade ne ha preso molta politica, se vogliamo, e anche alcune interessanti svolte di trama. Ma andiamo con ordine. Dune presenta una narrazione che fondamentalmente segue le vicissitudini della casa Atreides, degli Arkonen e dei Fremen. La storia nel primo libro mostra la faida tra gli Arkonen e gli Atreides, ma ci dà anche una panoramica di come la politica riesca a guidare gli aspetti più importanti della società. Questo è un qualcosa a cui abbiamo già assistito anche in Game of Thrones con l'eterna faida tra la casa Lannister e la casa Stark. Anche in questo caso si passa alla guerra dopo un tradimento e dopo le suddol e scelte politiche di una delle due famiglie, che porteranno entrambi al conflitto. Altra similitudine interessante riguarda i personaggi di Letua Atreides e Ned Stark. Primo, perché muoiono entrambi troppo presto all'interno della storia. Secondo, sono figure d'onore ed è proprio questo onore a spingerli verso questo infausto destino. Entrambi poi accettano con responsabilità di prendere in carico un qualcosa di estremamente importante e pesante. Il primo cavaliere è il governo di un altro pianeta come Arraides. E considerato che nessuno dei due può tirarsi indietro, sono costretti ad accettare, che è quello che li porterà poi ad essere traditi. Altra cosa interessante che le due storie hanno in comune è la religione, o meglio, il modo in cui viene usata all'interno del racconto. In Dune le Bene Gesserit sono una confraternita di donne, spesso chiamate streghe a causa della loro abilità, che usano i loro potenti mezzi per influenzare il potere galattico attraverso esperimenti religiosi, politici e genetici. In Game of Thrones abbiamo i maestri, che oltre a studiare e svolgere compiti medici e religiosi, hanno anche una certa influenza sulle casate. C'è poi il concetto di prescelto, perno della trama di numerosi film e racconti. Da Matrix al Signore degli Anelli, spesso c'è l'idea di questo personaggio che possa portare un grande cambiamento nel mondo. E qui torniamo alla scena finale del trailer della seconda parte di Dune, di cui vi ho accennato all'inizio. Paul Atreides è il classico personaggio che viene visto come messia, tant'è che le Bene Gesserit piantano questa idea addirittura tra i Fremen. Lo stesso si vede anche in Game of Thrones, poiché Jon Snow o Daenerys all'inizio erano visti come il principe promesso, una figura leggendaria che riuscirà a porre fine alla lunga notte. Ma questo porterà poi conseguenze terribili, almeno nel finale della serie di book che abbiamo visto in televisione. Nei libri di Dune, tra l'altro, la sorella di Paul Atreides, Alia Atreides, ha una certa somiglianza con un personaggio del trono di spade, Arya Stark. Entrambe, infatti, oltre ad essere sorelle dei personaggi principali, hanno anche alcune abilità abbastanza simili. Nel trailer di Dune vediamo anche Paul Atreides che riesce a cavalcare il cosiddetto verme della sabbia che c'è su Arrakis. Questa scena mi ha ricordato molto quando Jon Snow riesce a cavalcare i draghi con grande stupore di Daenerys. Insomma, non c'è dubbio che ci siano molte similitudini tra Dune e il trono di spade. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, se ne avete trovato altre o se credete che invece le due storie viaggino su binari diversi. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, c'è Acheazione, seguiteci su Facebook e Instagram dove tutti i giorni raccontiamo storie e facciamo news che riguardano il mondo del cinema e delle serie tv. Al prossimo video!